Si chiamano James Joe e Osagi, due nigeriani di 44 e 27 anni che passano le giornate nel parcheggio del pronto soccorso Santa Croce. Il loro intento è quello di aiutare gli automobilisti a trovare un'area di sosta libera chiedendo però in cambio qualche moneta. Entrambi regolari in Italia, sposati e con figli, non hanno timore a raccontare le storie di vita che li accomunano. Anzi si fanno avanti spiegando sia il motivo per il quale continuano a svolgere questa attività illecita, sia le difficoltà che devono affrontare ogni giorno assieme alle famiglie. Non ha un senso, è difficile, però alla fine da quando mi hanno licenziato da dove lavoravo, non è facile, però siamo qua a trovare spicci, chiediamo spicci per portare qualcosa a casa. Quanto riuscite a guadagnare durante il giorno? No, non è come guadagnare qualcosa, dipende se qualcuno è felice e ci ha da dare. Forse alla fine qualcuno può avere 20 euro, 15 euro, così a me no. È meglio di niente, hai capito? James Joe è in Italia da 11 anni, ha lavorato fino a poco tempo fa nel settore della metalmeccanica in una ditta a Monbaroccio e ha la fortuna di avere la moglie e le tre figlie qui con lui. Il problema, racconta, è che oltre a non trovare un lavoro dignitoso non riusciamo a far avere alle nostre bambine la cittadinanza italiana e quindi, anche se lo volessimo, non possiamo espatriare senza le carte in regola. Protesta, infatti, lamentando di essere ostaggio della burocrazia. È vero che se i conducenti non lasciano monete e qualche tuo collega dà fastidio alle auto parcheggiate? Io come collega qui credo siamo molto tranquilli, le gente che vengono qui siamo tutti amici, capito? Però dipenderà posti, dipenderà posti, come qui, no, non letchiamo. Siete bravi ragazzi? Sì, sì, sì. Osaggio è invece in Italia da 10 anni e da 8 a Pesaro. Con lui ci sono la moglie e i figli, di cui un bimbo di appena 4 mesi. Per mantenersi, racconta, ha fatto anche l'imbianchino. Quanti anni hai? Io sono 27, quasi 28. Ecco, quindi sei molto giovane. Che cosa ti ha spinto a venire qua in Italia? Mi ha impattato qui mio babbo per andare a scuola. Sul tema dei parcheggiatori e venditori abusivi si è dibattuto a lungo. È un dato di fatto e comunque certo sono in continuo aumento in diversi angoli della città, così come d'altra parte cresce l'esasperazione di qualche cittadino stanco di trovarsi lì di fronte ogni volta che parcheggia l'auto, che va al mare, al supermercato o semplicemente a fare una passeggiata in centro. Nonostante tutto, gli immigrati sono ben consapevoli di svolgere un'attività contraria alle norme giuridiche. E a volte si passano i carabinieri, i poliziotti, si chiedono i documenti, poi si li danno, poi vedono che siamo in regola, quasi tutti che vengono qui siamo in regola, poi non succede mai casino qui in zona, quindi... Quindi vi lasciano fare? Sì, qualche volta mi mandano via. Invece tra voi ci sono delle rivalità nei vari parcheggi? Eh, io guarda, questo non è un lavoro, quindi dobbiamo pensare di quello, non è un lavoro. Ogni giorno, come anche oggi, io vado sempre all'agenzia, alle fabbricche a cercare il lavoro. Io faccio questo fino all'uno, al mezzogiorno, poi vado via, vado a casa, cambiamo e poi esco fuori per cercare il lavoro. Quella è la questione. E mantenere la famiglia, invece di prendere la pistola o di dare fastidio alla gente, e meglio facciamo questo per vedere che anche 10 euro al giorno, quella va bene per la famiglia, no? Così non restiamo fame, anche abbiamo l'affitto da pagare, i depiti, l'affitto, le luci, tutto da pagare, quindi con questo tiriamo sempre avanti, dai.